Grazie per avermi invitato nuovamente al tuo Open House, ormai una settimana facciamo. Sì, è molto più carina questa casa rispetto a quella che hanno fatto vedere la volta scorsa. Beh, in effetti quella era totalmente da ristrutturare, ci stavo dicendo anche a lui, qui il proprietario ha spello un po' di soldi, ha rifatto i movimenti, gli impianti, le finestre, ancora insomma. E dove siamo oggi? Siamo a High Park, che è una zona abbastanza residenziale della città. Ha una buona presenza di attività demografico, di persone venute dall'est Europa, China, Russia, Polonia, esatto. E niente, insomma, il posto è molto bello, la casa è posizionata vicino alla metropolitana, infatti sentite sta passando. Infatti adesso ho venuto con la metropolitana, è veramente poco distante, quindi la location pure questa volta l'avete ottimizzata. Sì, come vedi arriva gente, vengono per vedere. Qui c'è questa parte del soggiorno, poi il vacanzo, una cucina, al piano di sotto c'è una sorta di sala hobby con un ulteriore bagno, e la zona ovviamente della caldaia, tutti i sistemi tecnici di casa, e sopra abbiamo tre camere da letto e un bagno. Sì, facciamo un giro, come no, anche volentieri, possiamo anche vedere le altre stanze tramite il bottone in alto a sinistra. Sì, esatto, ogni tanto compare. Sì, esatto, e quindi... Va benissimo. Allora io saluto, poi intanto tu ricevi i cogliastiti. Sì, grazie, grazie, ci vediamo. Eccoci, eccoci qua. Mi guardavo intorno. Sì, come puoi vedere, la zona notte è tutta su questo piano, c'è una camera da letto, quella che qui chiamano master bedroom, un pochino più grande delle altre. Questa qui arriva? Sì. Sì, è in due stanze, una media e una più piccola, qui il bagno ovviamente. Siamo che stiamo aspettando i carini della persona giusta per poter chiamare questo immobile a casa sua. Certo. Vediamo come dice il nostro amico. Ha portato la caparra. Grazie nuovamente. No, grazie a te, grazie a te. Ci vediamo a questo punto al prossimo open house, giusto? Perfetto. Io intanto mi guardo un po' intorno. Grazie Francesco. Io vado a prendere gli altri che intanto sono arrivati. Grazie. Ciao. Ciao.